Questo pomeriggio è uscito il primo trailer, se non erro, per quanto riguarda Madame Web. Ebbene, io ho aspettative che a dire sotto le scarpe è dire poco per quanto riguarda questo film del Sonyverse, del Venomverse, chiamatelo un po' come volete. Quindi, comunque, il trailer l'ho visionato e devo dire che mi aspettavo peggio. Non è che sia sto gran capolavoro, però comunque sia un minimo, mi ha intrigato un po' di più. Quindi se prima avevo aspettativa 0, adesso ho aspettativa 1, ecco, per farvi capire. Non mi strappo i capelli nell'aspettare l'uscita di questa pellicola, però un pochino di curiosità me l'ha messa. Allora, partiamo dal fatto che il villain, che sarà Ezekiel, il costume già nei primi secondi mi ha fatto quasi morire dal ridere. Ora, può essere simile quanto volete al fumetto, ora io non lo so se sia simile o meno, ma ragazzi, sembra un cosplayer del Lucca Comics o del Romics. I costumi, in generale, anche delle eroine, per quanto poco si vedano, mamma mia, sono abberranti. Alcune scene in CGI fanno letteralmente schifo, però per quanto riguarda quest'ultima cosa, ovvero la CGI, possono sicuramente rifinirla quando uscirà il film completo. Lo sappiamo che il trailer, soprattutto i primi, hanno una CGI di solito molto spesso molto raffazzonata, quindi quella che poi in realtà vedremo nel film completo di solito è sempre superiore a quella che si vede nei trailer. Però per quanto riguarda invece i costumi, eh ragazzi, il design quello rimane, almeno che non ci sia un colpo di scena clamoroso, ma ne dubito. Quindi i costumi, soprattutto del villain, ragazzi, mi fanno proprio schifo. La trama, per chi non conosce bene i fumetti da questo primo trailer, non è che si capisca molto. Ok, vediamo un Madame Web che era quasi in fin di vita e adesso può vedere il futuro e deve salvare queste tre ragazze da questo psicopatico che, insomma, si traveste molto simile a Spider-Man, ovvero i Zikiel. Ma non capiamo e non ci dicono il perché questo voglia uccidere queste tre tizie, non capiamo diverse cose. Ci può anche stare perché è il primo trailer, magari nel trailer finale ci faranno capire un po' meglio tutto. Però, dai, questo ci può anche stare, non lo metto tra i difetti. Comunque sia, ecco, c'è poco altro da dire, secondo me. Sicuramente nella scena post-credit vedremo qualcosa a che fare con Spider-Man. Ovviamente qui avremo Spider-Woman, insomma, l'abbiamo già vista in azione. Addirittura, in un breve secondo, vediamo quella che sembra addirittura molto simile all'Iron Spider. Devo dire che in questi pochi minuti, ovviamente, perché il trailer dura pochi minuti, i personaggi e le attrici ci stanno anche. Ora dovremo vedere un po' come sarà il tutto. Ecco, Sony purtroppo ultimamente, ragazzi, cioè, veramente, lo sappiamo il trend che sta seguendo. Quindi ho molta paura anche per Craven e il Cacciatore, per quanto anche quel trailer con dei difetti come questo, però, mi ha messo curiosità. Quindi staremo a vedere, ripeto, se prima avevo una curiosità allo zero, adesso ce l'ho sicuramente a uno. Non dico che sia uno dei trailer più brutti mai visti nella mia vita, ma non è sicuramente neanche un trailer magnifico come qualcuno. Magari potrebbe dire, ma ovviamente ognuno ha la propria opinione, ma secondo me, oggettivamente, non è un bellissimo trailer. C'è questa musica, c'è questa confezione del trailer che è anche interessante, però dovremmo vedere poi la sostanza. E quello, ovviamente, per analizzarla insieme dovremmo vedere il film o aspettare anche altri trailer. Quindi per il momento mi ha messo sicuramente più curiosità rispetto a prima che, sì, ok, lo andrò a vedere, ma senza questo primo trailer, ragazzi, proprio non me ne fregava proprio nulla, ma proprio nulla. Quindi dai, può essere comunque sia interessante, dovremmo però vedere un po' il tutto. Quindi voi fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate di questo primo trailer, che cosa, insomma, vi ha suscitato, se vi fa schifo, se vi piace, se lo mettete nella via di mezzo come ho fatto un po' io. Non dico che sia brutto, ma neanche bello. E niente, noi ovviamente ci vediamo alla prossima e ciao!